Senza pensione. Abbiamo due persone che definire speciali, forse Pucca, arrivano da Piccerno per questa occasione qui a Maschito per questi dieci anni, sono la signora Francesca e il signor Mario, pensionati, lei ha detto senza pensione, ma che dedicano la propria volontà di aiutare gli altri, il proprio tempo per la causa Teleto. Cosa avete fatto in questo periodo e cosa vi sentite ancora di poter dare a questa causa? Abbiamo fatto tutte le volte, abbiamo venduto i cuori, tutto quello che c'era da fare, abbiamo sempre cercato di dare il meglio, di aiutare chi ha bisogno e tutto il resto. È la stessa cosa, ho aiutato mia moglie a vendere i cuori. Comunque continueremo a fare questo che abbiamo fatto fino adesso, per la causa della ricerca, per le malattie genetiche e via dicendo. Come hanno risposto dalle vostre parti? Piccerno è un po' diverso dal nostro volto, qui si va bene, da voi avete le stesse risposte? Sì, la risposta da noi è stata abbastanza bene. Se dovesse consigliare a una persona, un giovane, una persona che ha un po' di tempo, cosa vi sentite dire? Aiutiamo te, da come? Sì, abbiamo detto sempre a tutte, però i miei figli mi aiutano quando posso, chiunque ci aiuta comunque, ci tengono. Diciamo ai giovani che è buono che fanno i volontariati, nelle varie occasioni, nelle varie associazioni, diciamo. Diciamo a tutti e tre, grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.